Avresti mai immaginato che con la pandemia perfino la zia che ti chiedeva sempre una mano con internet avrebbe imparato a comprare online? Oggi 9 utenti su 10 acquistano sui marketplace, cioè siti come Zalando, Amazon, Privalia, eBay e centinaia di altri siti in tutto il mondo. Ma cosa vuol dire questo per i tuoi brand preferiti? Significa che devono iniziare a vendere proprio su questi siti e devono sbrigarsi a farlo. Ma c'è un ma. Sempre più i marketplace vogliono che siano i brand a vendere direttamente a te e a tua zia attraverso le loro piattaforme, passando così dal tradizionale modello B2B wholesale a cui i brand erano abituati ad un nuovo modello, il direct to consumer. 8 brand su 10 non sono pronti a farlo. Ma cosa vuol dire direct to consumer per un brand? Vuol dire conoscere i meccanismi di ogni marketplace, creare cataloghi digitali multilingua, gestire spedizioni e resi nazionali, internazionali e internazionali, gestire aspetti fiscali e contabili in tutto il mondo e assistere i clienti 7 giorni su 7, 24 ore su 24. E se esistesse una soluzione semplice ed efficace per vendere sui marketplace? Grazie all'infrastruttura tecnologica e logistica integrata della piattaforma YOKABE, ogni azienda può vendere sui marketplace in modo semplice, veloce e con investimenti minimi. Lavorare con YOKABE funziona. Negli ultimi 12 mesi abbiamo processato oltre 150.000 ordini e siamo cresciuti del 110%. Financial Times ci ha riconosciuto come una delle 500 aziende con la crescita più veloce in Europa. Per esperienza diretta so quanto sia difficile per un'azienda della moda organizzare e gestire le vendite al cliente. Grazie a YOKABE oggi ciascuna azienda può farlo in modo molto efficiente e molto velocemente. Grazie alla nostra campagna su mamacrowd.com anche tu puoi investire insieme a David, Donatella e altri investitori professionali che hanno già creduto in noi e dal futuro dell'e-commerce. Potrai così diventare il nostro socio e partecipare alla grande crescita che ora più che mai ci attende.